Ciao a tutti, sono Alessio19870 Alto gameplay di Resident Evil 2 Via, allora Devo andare avanti di qua Non c'è il bauro, devo andare Di qua Allora, posiamo il nastro Lo metto qua Ok Andiamo avanti Qua c'è un cassetto Chiuso Usiamo l'oggetto personale Sarebbe il grimantello Uh, lo spray medico, lo prendo Andiamo avanti Ma che? E' quello chi è? Boh, però andiamo avanti Qua non c'è niente Ah, andiamo avanti Andiamo avanti Qua? Mmh Eh cazzo, c'è il cavo elettrico Uh Una testa staccata Ma chi è stato? Ma chi è stato? Qua c'è i proiettili Li prendo, via Del sangue Che cae di sopra Ma chi è? Vediamo un po' Uh Ecco Ecco Eccolo Eccolo Chi è stato Ma Un cervello Una lingua Eh che schifo Al posto degli occhi C'è il cervello Questo è un leaker Ma che schifo E' stato lui A ammazzare Lo zombie Io ti ammazzo Con questo Attacco raffica Ma che Oh Eliminato Via Stronzo Erba verde Andiamo avanti Di qua Di qua Qua dentro Devo andare Un documento Un documento Sì, cosa palla? Di alcune operazioni, ok, andiamo avanti a vedere quale c'è, vediamo di qua, sì, ah, qua c'è l'accendino, ma qua non c'è niente, via, andiamo fuori, e andiamo avanti di qua, qua dentro, i zombie, oh cazzo, prendete questo, ok, eliminato, qua ci sono un altro, ok, due erbe verdi, erbe verdi, le prendo, e combino, ok, entriamo qua dentro, allora qua, altre munizioni, ecco, un altro documento, ok, ok, posiamo gli oggetti nel baule, proiettili, le erbe mischiate, lo spray medico, ok, ok, qua, è chiusa, una chiave speciale, e dov'è? qua, qua c'è, del nastro, del nastro, ok, andiamo fuori, saliamo le scale, ok, altre scale, un corridoio, un corridoio, qua c'è una porta, ma, qua, è semplice da fare, bene, cioè, questi due blocchi vanno, uno qua in fondo, con l'altro lì, in fondo, ok, ci sono quasi, ecco, fatto, boom, recuperiamo quel pezzo lì, gioiello rosso, lì, entriamo qua, ufficio stars, vediamo qua cosa c'è in giro qua, qui non c'è niente, qua, vediamo, oh, che foto, di membri della stars, oh, bella, qua, uh, cos'è? un diario, ecco, indovinato, di Aeroly Triss, aeroly, 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 ok, e qua c'è un oggetto, medaglio unicorno, no, qui non c'è niente, vediamo, l'armadietto, uh, il lanciagranate, lo prendo, usciamo, boom, il flaxo, il flaxo, l'armadietto, l'armadietto, usciamo, ci troviamo, ci troviamo all'ingresso, ci troviamo all'ingresso, è un pezzo lungo da fare, bene, andiamo avanti di qua, oh, cazzo, dei zombie che vogliono entrare, ma ci sono le assi di legno, è impossibile entrare, non mi prenderete, ah, ah, qua, l'ho ammazzato il liquor, che roba schifosa, ok, si, posiamo gli oggetti, il nastro, nastro, gioiello rosso, e lanciagranate, ok, andiamo fuori, di qua, mettiamo la medaglia unicorno, qui, oh, una chiave, la prendo, la prendo, vediamo, si, chiave picche, ok, ok, allora, chiave picche, va, uno la, dove c'è il liquor, secondo dove c'è l'ufficio stars, molto bene, entriamo, entriamo, allora, qua, la prima porta, la prima porta, eccola qua, entriamo, allora, qua c'è un documento, eccolo qua, il nastro, qua c'è, il nastro, e lo prendo, spostiamo, spostiamo la scaletta, in fondo, vediamo un po', qua c'è, qua sopra, uh, la mano bella, la prendo, mi può servire, ok, torniamo fuori, c'è, usciamo, ok, torniamo, dove c'è l'ufficio, l'ufficio stars, basso, le scale, spostiamo, manca, ancora, la porta, lì in fondo, e ci siamo, ok, che, uh, la bambina, lo zombie, ma che, puoi, e se ne va, ma che cazzo, vuoi tu, vieni qua, dove va, dove vai, beccati questo, ok, morto, andiamo là, dove la bambina è scappata, si, 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 scattiamo la chiave, entriamo, chi è? Leon, e vai, dai, eh, eh, in fondo è andata, allora, si, si, eh, eccola lì, in tasca, si, ma la bambina è nata di qua, si, poi sono le munizioni, eccole, ok, andiamo di qua, un altro cassetto chiuso, apriamo, uh, granate al napalm, le prendo, vediamo qua dentro, mi trovo nella biblioteca, uh, uh, qua c'è lì, vediamo, erba rossa, che la combina con quella verde, quindi, che è molto importante, andiamo qua sopra, un po' di qua, in quella porta, ci andrò più avanti, boom, che botta, qua, la combinazione, la combinazione è questa, e andiamo a farla, si, guarda qua, allora, semplice, ecco, questo, a destra, e questo, sempre, a destra, voilà, prendiamo l'oggetto qua dentro, pietra, serpente, ok, usciamo fuori, qui, su questa porta, dei zombie, eliminiamo, ok, il secondo là in fondo, top, ok, ci sono altri, qua, ma scala di emergenza, si, si, però fammi tutto il giro, così, la scala di emergenza, mi può servire, ok, eliminiamo gli altri, zombie, ecco, ok, ok, un altro là in fondo, no, è qua, ok, via, andiamocene, qua dentro, qua dentro, qua cosa c'è, una, no, aspetta, cos'è, un accendino, allora, ma posiamo gli oggetti, manovella, i proiettili, le anate a Napolm, l'erba rossa, un po' la pietra, un po' la pietra, e prendiamo l'accendino, qua c'è un documento, prima il nastro, ok, 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 Ok Allora, posiamo l'accendino Lo mettiamo qua Appendiamo il nastro E andiamo a salvare Allora Qui Ok Allora Vi dico che finisce qui Il gameplay di Resident Evil 2 Un ciao da Alessio19870 Al prossimo gameplay Allora 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 Allora